L'Antlo è la vigilia di un importante appuntamento che si svolgerà a Genova. Si tratta del secondo congresso del Nord-Ovest intitolato Professionalità contro massificazione del prodotto, una sfida per il futuro. A Enrico Galli, che è responsabile nazionale del marketing dell'Antlo, chiediamo innanzitutto di cosa tratta questo titolo, di questo congresso, di spiegarci, cioè in parole accessibili, immediate, che cosa sia la professionalità contro la massificazione del prodotto, una sfida per il futuro. Riteniamo che con le nuove tecnologie ci sia la necessità di spiegare ai colleghi che si possono ancora fare dei lavori di eccellenza e che la nuova tecnologia non porta verso l'appiattimento, ma potrà mantenere i livelli qualitativi elevati che i nostri odontotecnici in Italia hanno sempre avuto. Quindi, sostanzialmente, cercare di far passare questo messaggio. Ma, di fatto, l'odontotecnico si rende conto che ci siamo nel bel mezzo di una rivoluzione tecnologica che investe la sua professione e il suo futuro? Beh, io credo che uno degli aspetti più importanti che deve curare la nostra associazione sia esattamente di far capire che questa cosa la si può superare attraverso anche Antro, ovviamente, stando tutti insieme per capire come ci dobbiamo muovere nei confronti di questa tecnologia, che non ci deve essere necessariamente avversa, ma deve necessariamente capire il nostro collega, ovviamente, che potrà, bene o male, cavalcare questa tecnologia. Il congresso, di cui parlavamo prima, contiene in sé un memorial su Alfredo Buttieri. Vuole spiegarci chi è? Alfredo è semplice da spiegare. È stato un grandissimo dirigente dell'altro, è rimpianto come dirigente, ma è rimpianto soprattutto a livello scolastico, perché è stata la chioccia di tantissimi odontotecnici, che oggi sono i nostri dirigenti, che lo rimpiangono ancora oggi. Quindi è veramente un piacere poter dedicare un evento di questo genere al suo nome. Grazie.